Il ricordo del professore Matteo Bottari ucciso il 15 gennaio del 1998 è affidato a quei pochi cittadini che ogni anno organizzano una fiaccolata commemorativa per ribadire ad una città distratta che l'omicidio del primario di endoscopia non ha ancora un mandante, un esecutore materiale e nemmeno un perché. E da 15 anni dal delitto un corteo silenzioso si è mosso dalla clinica Cappellani sul viale Regina Elena per raggiungere l'incrocio con il viale Annunziata, stesso percorso seguito in auto dal professore Bottari per ritornare a casa quella sera del 1998 ed interrotto dagli assassini dove oggi c'è la rotatoria intitolata all'ex sindaco Carmelo Fortino. Un corteo senza bandiere politiche e composto anche dai parenti della vittima rimasti in religioso silenzio e poi prevalentemente da giovani. Uno degli aspetti che teniamo a sottolineare è l'assenza di giustizia e l'ansia per una situazione in cui a distanza di 15 anni non si conoscono il movente, il mandante, gli esecutori materiali di un omicidio così efferato e che ha segnato profondamente la storia di questa città. Quindi la domanda di giustizia è forte e queste iniziative crediamo siano importanti per non dimenticare e per tenere alta l'attenzione. È una pagina trista della nostra città che non ha nessuna risposta, che lascia i familiari praticamente nella tragedia di non sapere neanche per quale motivo è successo questo evento tragico. E la città certo avrebbe dovuto rispondere diversamente perché ricordiamolo purtroppo da quell'evento è nato il caso Messina, il verminaio e forse anche con un modo d'orgoglio comunque sarebbe stato giusto ricordare diversamente una persona che ancora non ha giustizia. L'omicidio Bottari 15 anni dopo rappresenta uno dei casi più clamorosi di inefficienza della giustizia. Nonostante il cosiddetto caso Messina scoppiato subito dopo l'omicidio a seguito degli accertamenti della commissione parlamentare antimafia arrivata tempestivamente in città, tutto sembra essere stato dimenticato. Le infiltrazioni della criminalità organizzata al Policlinico Universitario, all'Università ed anche al Tribunale, nelle quali si parlò a lungo coniando il termine verminaio, sono oggi solo un ricordo di pochi. Mentre lo Stato non ha risposto all'appello dei cittadini che chiedono giustizia. Per non ricadere in una finta calma nata dall'obbligo, dobbiamo fare i conti con il nostro passato. Di quei mesi noi portiamo ancora alla rabbia il sogno che le cose possono cambiare, gli studenti di ieri, di oggi, i cittadini tutti. Grazie. Anche se noi siamo più giovani, noi non ci dimentichiamo della figura del professore Matteo Bottari. Lo striscione con il nome del professore Bottari è stato posato sulla rotatoria all'incrocio tra il viale Regina Elena e il viale Annunziata, punto di arrivo di un corteo che è rimasto compatto anche sotto la pioggia. Gli anni trascorsi, impressi sotto il nome, ricordano il lungo vuoto della giustizia messinese. E tra i presenti c'è anche chi avrebbe voluto, così come il Consiglio Comunale di Messina aveva indicato, che la rotatoria portasse il nome del professore Bottari. Questo sarebbe stato il luogo ideale per ricordare ai messinesi che la giustizia deve avere il suo corso e deve giungere a buon fine. Piccola polemica in una giornata dedicata alla memoria. Piccola polemica in una giornata